Mi chiamo Lorenzo e sono un viaggiatore. Il mio progetto si chiama Vostok 100k. Viaggio col mio vecchio camper, ma anche a piedi. L'importante è raccontare. Queste sono le Vostok Drops, piccoli video pubblicati sui social nel corso dei miei viaggi. Pochi giorni fa ricevo una mail, apro la mail e il mio amico Daniele Buttignone mi invita a raggiungerlo in Australia perché lui vive lì. E allora io non lo ragiono, naturalmente, no, non ringrazio Daniele come sempre. Questo in realtà è il mare Adriatico. Sono alla base, sono il santo spirito, ridente, cittadina, borgo di mare vicino Bari, sul mare Adriatico e preparo la prossima partenza perché si potrebbe sempre pensare che il progetto Vostok è dormiente, ma qui di dormiente, come vedete, ci sono solo i gatti. Si lavora sempre con molti sacrifici, vado avanti per costruire questo grande progetto e la prossima partenza dovrebbe essere il 5 novembre, in pratica fra tre giorni. Tutto è quasi pronto, sto preparando lo zaino, ma tanto ci metto un quarto d'ora, destinazione Malta. Sarò a Malta dal 5 al 12 novembre, in giro, come capita, con lo zaino sulle spalle, prendendo i bus, camminando, affittando una bicicletta, non lo so, ma l'idea fondamentalmente è quella dell'estate scorsa in Sicilia, però in Sicilia ero col camper, dove ho lanciato il Vostok Social Trip, Vostok 100 hashtag, Vostok 100k Social Trip. L'idea è questa, così come condivido i miei viaggi con quelli che mi seguono, costruire questo viaggio a Malta con quelli che mi seguono, per cui conoscete benissimo Malta, avete suggerimenti, conoscete dei posti dove di solito non ci va molta gente, dei posti insoliti, dei posti che ritenete unici, conoscete delle storie particolari di gente di Malta, conoscete qualcuno o voi mi potete fare da guida a Malta, ci possiamo prendere un caffè insieme o se vogliamo mi potete pure ospitare. Scrivetemi, datemi suggerimenti, datemi consigli, così che io possa, prima della partenza, tracciare un percorso ideale e raggiungere tutti i posti che mi avete segnalato sotto questo post. Quindi, Vostok 100k Social Trip. Credo che tutto sia pronto, aspetto solo i vostri suggerimenti. anzi, non è tutto pronto, non proprio tutto è pronto. Adesso è tutto pronto, insomma, con quella barba sembrava un po' mio nonno e poi era una vita che volevo fare questo giocatto. Comunque, Vostok 100k Social Trip, aspetto suggerimenti per il giro di Malta all'avventura. Grazie a tutti. Grazie a tutti.